A Capadona! Benvenuti alla Capadona Top Show! Oggi vi presentiamo la Top 10 dei The Providence! Presentiamo gli ospiti di oggi! Presentiamo il nostro primo ospite! Ecco a voi, nel nostro studio, Rico! Allora, tutti i ragazzi, io sono Rico e sono qui oggi con voi per commentare la nostra Top! Adesso il nostro secondo ospite! Ecco Andre! E adesso il nostro terzo ospite! Diamo il benvenuto a te! Cari amici, al nono posto della nostra Top 9 abbiamo il percorso, anzi i percorsi della morte del nostro canale! Il cuore del Providence! Ok, sono caduto e ricomincio Stavolta fu il fuoco I cacchi stavano prendendo fuoco le spalle Continua, continua I cacchi stavano prendendo fuoco le spalle All'ottavo posto abbiamo la sfida degli elastici 3, 2, 1 3, 2, 1 Enrico, com'è stato ricevere quell'elastico in faccia? Sì, allora ricordo questo grave episodio Come se fosse ieri E ho tutto ancora il viso intolpito Al settimo posto abbiamo la post-it challenge Guardiamo Ok, adesso Van si dovrà sottoporre a questa sfida perché ha perso Quindi gli attaccheremo il fogliettino con la dedica di Ripo Sulla spalla 3, 2, 1 Dai, stai chiedendo, mi fai male Sembra tipo un buonio della... Che cazzo è tutto quel sangue? Non sono Greta Menchie Allora, sesto posto BB Gun Challenge Accomando a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Noi siamo i due Providence, io sono Rico Io sono Val Non me l'avete detto che devo dire secondo me Io sono Dave Oggi siamo qui sulle montagne di Camigliano per spararci contro A petto nudo Tre Qua, pure qua Fai vedere Sulla linea Tre Due Uno Nessuno c'è fatto questo Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Io sono Ciccio Lamer e quello che faccio lo faccio come voi Chi è questo l'unito personaggio? No, per favore fuori Ma è Ciccio Game Grazie Ma è Ciccio Game Ma fa per noi Per tutti i bambini È un clickbait Fuori Accompagnatemi fuori Grazie Scusate Scusate sono amareggiato ma questo davvero non è un programma per bambini Continuiamo con la nostra top nine E io andrei a presentare al quinto posto la sfida del merluzzo Però merita bene Guardiamo Signori siamo quasi vicini alla top tre Ma prima Ma prima Al quarto posto Le palle di Vanna Questa è più grande di quella di Andrea Oh Dio Non ho più le palle Non ho più le palle Signore e signori siamo giunti alla top tre E al terzo posto abbiamo La sfida della Vladista Signora Longi La sera del 22 cosa stava facendo? Oh che pappi però Solo 5 euro di miniciccio Cioè Scusate Ma non siamo in un'udienza al tribunale Però si parlava di miniciccioli E infatti Al secondo posto C'è la Betar di Challenge Finita Porco Dio Guardiamo Andiamo di seguito a leggere Le istruzioni per usare i bambini Tritolo Tritolo Appoggiare a terra su una superficie solita e piana Accendere la micia ed allontanarsi Immediatamente Non manomettere assolutamente Non esclare la polvere contenuta Usare sempre solo un prodotto alla volta Usare solo all'aperto Lontano da cose e cazze Fallo per noi Cioè fallo per i 374 Che hanno chiesto i video con i petardi addirittura stamattina Allà 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 È andato malissimo È andato malissimo Mi butto Mi butto Ha fatto in palestra Più che fatto ha subito Ah Non si è aperto Ahia Sei vivo? Sei vivo ci parli Una volta Ma ci parli dall'aldilà Eh? Carico Stai parlando dall'aldilà È sussidato per cadere di nuovo col paragaduto e chiuso For a nodal time Ok Quindi dicevamo al primo posto c'è la sfida che fece o meglio subì Andre In palestra Nella palestra di Camigliano Durante il match contro Chris Che adesso ci sta facendo la gentilezza di registrare Guardiamo Wow Che botta Ai Ai È qui che io l'ho soprannominato Il molliccio Per questo video è tutto Come sempre lasciate un commento e un mi piace Anche la pagina di facebook Come in ogni video trovate una descrizione Se non siete ancora iscritti iscrivetevi Noi ci rivediamo in un prossimo video Bella ragazzi Allora adesso annuncio grandissimo spoiler Preparatevi per la serie Non sono da riguardo È la tanna È la tanna È la tanna Questo ci va in un video Noo